Ad aprile il no allo Sprar da parte del Consiglio Comunale fu un netto, ma ora questa bocciatura potrebbe essere rimessa in discussione. Dopo la petizione firmata da oltre 600 persone a riaprire giochi a Palazzo San Francesco ci ha pensato il vice sindaco di Sernia, Cesare Pietrangelo. In questi ultimi mesi ha detto tante cose sono cambiate e la situazione è in costante evoluzione, ragion per cui l'ipotesi di aderire al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati non è affatto da scartare. Penso che un'amministrazione degna di essere chiamata tale deve mettersi sempre in discussione, analizzare tutte le nuove proposte che gli pervengono dai vari enti, nonché dai vari enti governativi e quindi se si creano le condizioni, ripeto se si creano le condizioni per poter aderire allo SPRAR, il cui fine potrebbe significare la gestione dei migranti direttamente dal comune fatta in un certo modo e soprattutto un numero limitato di migranti sul territorio, se queste condizioni si verificano perché non rivalutare anche questa posizione, ripeto ma ci sono delle condizioni che devono essere prima verificate in monte. Il pur timido cambio di rotta da parte dell'amministrazione comunale di Sernia è testimoniato anche dal recente accordo per l'impiego dei migranti in lavori socialmente utili. Una decisione questa che ha spinto il consigliere comunale di Casa Pound, Francesca Bruno, ad uscire dalla maggioranza. Il vice sindaco si è detto sorpreso ma al tempo stesso ha parlato di scelta tutt'altro che responsabile. Io ritengo che non sono comportamenti che si debbano adottare in un momento di crisi che attanaglia il comune di Sernia. Io voglio ricordare un po' a tutto e compreso il consigliere di Casa Pound che i Serni ferma il 2011, ovvero al termine dell'amministrazione Melogli e che poi una serie di commissariamenti hanno portato a questo stato di fatto. Già questo dovrebbe far pensare a coloro i quali abbandonano così di netto la maggioranza senza pensare al danno che potrebbero causare alla città stessa. Si dà la possibilità cooperative di poter gestire alcuni migranti sul territorio senza assolutamente intaccare le casse del comune di Sernia. Queste persone ci sono sul territorio, ne dobbiamo prendere atto e come amministratori abbiamo l'obbligo di porre in essere tutte quelle soluzioni che garantiscono la migliore convivenza.